Ridge Fab 4G, siamo ancora da WeCo, smartphone davvero interessante, abbiamo questa back cover satinata, un po' ricorda la Sandstone di OnePlus, abbiamo varie colorazioni qui, il bianco, il nero, il grigio e fin anche l'arancione, andiamo a vedere però questo con questa cromatura qui di lato in colore azzurro, queste cromature sono qui in alluminio, abbiamo qui il bilanciere del volume da soccensione e spegnimento, abbiamo un processore Qualcomm Snapdragon, quad core da 1,2 giga, ROM 16 giga, RAM 2 giga, micro SD fino ad un massimo di 64 giga, dual sim come al solito, 154 grammi di questo smartphone davvero davvero leggero, 5,5 pollici quindi fate conto un po' voi, 150 grammi sono davvero pochi, 5,5 pollici con la sola risoluzione dell'HD, Bella questa finitura in alluminio, bisogna dirlo, anche la back cover, 13 megapixel dietro, 5 megapixel davanti, non ci resta che provarlo poi più in là